Date un'occhiata al canale Piccole Storie, link in descrizione. Mi stanno chiedendo di lasciare il mio ragazzo attuale e di mettermi con te, Leo. Con me? Ah, secondo me ci sta, ci sta. Vedrete una volta lì qua, non so quanti anni, però ci sta. La vedrò a 80 anni con i capelli. Lei fa tutte le corna questo, nonno, per l'amor di Dio. Io! Ah! Ah! È sicuro. Allora, senti. Momentaneamente, cioè, ora sono un ragazzo single, quindi, cioè, ci sta. Cioè, no, che faccio l'ecolo, che cazzo vuoi farei? Non so, con nessuno. Quando sono fidanzato sono tutta un'altra persona. Buonasera, ragazzete. Allora, io vi ricordo che voi due vi fermiate ragazze. No! Abbiamo gusti diversi, non mi scambiamo le ragazze. No, le ragazze non ce le scambiamo. Mai fatto, mai lo farò. Uno per rispetto a lui, ma anche... Lei è, abbiamo gusto diverso. Lei è mio, è già prenotato. Già prenotata, già. Ma la rapida hai fatto lì. Non so, complimenti, si può si f***a a lei. A me, ma con complimenti mi fate. Leo sei bellissimo, Andre sei bellissimo. Grazie, meno male che sei tu. Vado a prendere i cazzoletti, arrivo. Rimani indietro. Ce li ho da qua comunque, se vuoi ti li lancio, te li faccio arrivare. Va bene. Abbiamo un esemplare di Usha, Usha, che li sbroccio là. Comunque ragazzi, seguite tutti, nel frattempo che manca Teoli, seguite tutti mio fratello Andrea Prezioso su Instagram, mi raccomando. E pure i TikTok miei. Secondo a tutti. Abbiamo un esemplare di Teoli che si sbrodola il naso e corre in cucina, dove cazzo è andata a prendere i fazzolettini. Ragazzi, non prendete esempio da me, voi la mattina vi dovete vestire e fare le video lezioni per bene, non fate come me che si veste a metà. Che si spoglia. E che si spoglia durante la notte. Poi dice che io sono scemo, che ho problemi io, cioè però lei, ovviamente è nevic. Non ho problemi, non ho problemi, è questione di una cosa, questione di mentalità, che praticamente io mi spoglio. In digestione dal gossip, fate un salto su piccole storie. È un ottimo digestivo.